È da qualche giorno che penso a come riassumere questi sei mesi di attività in un piccolo video e abbiamo scelto ovviamente come location Palazzo Marino, Piazza San Fedele, dove abbiamo passato giorni e giorni a studiare, a prepararci e soprattutto parecchie nottate qui al gruppo consigliare. Ma torniamo un attimo ai nostri obiettivi. Volevamo aprirci un varco nella politica e lo stiamo facendo. Se fino a ieri siamo stati un piccolo gruppo di attivisti attivi sul territorio di Milano e nati in rete, ora ci siamo dati rappresentanza politica e siamo entrati nelle istituzioni. Dovrebbe essere una cosa normale in tutte le democrazie moderne, invece da noi è stata un'anomalia questo, è stato bucare un sistema politico totalmente chiuso dai partiti, dove o passi attraverso a loro un partito oppure stai fuori. Certo, un consigliere su 50 non è molto, ma diventa tantissimo e fortissimo se questo è l'unico che può parlare liberamente. La nostra arma più forte in questi mesi è stata sicuramente l'essere sganciati da qualunque logica di partito e di coalizione. Ed è stato davvero buffo vedere i vecchi scherriamenti politici cercare di capire come potesse anche solo essere possibile questo votare a progetto. Votare a favore di qualcosa che si reputa positivo e contro a qualcosa che a contrario si reputa dannoso per la collettività è un principio talmente ovvio e di buonsenso da risultare rivoluzionario in questa politica, dove dietro ogni voto c'è un partito che ti dà una direttiva, un capogruppo che tiene le fila dei singoli consiglieri e magari anche le lobby che ti hanno spinto in campagna elettorale a tenerti per i peli del naso. Senza nulla togliere all'impegno e alle competenze dei singoli consiglieri degli altri scherriamenti, ma questa impostazione, questo imprinting si sta rivelando assolutamente vincente su tutti i fronti ed è la differenza tra lista civica e partito, cioè nessuno a cui dover rendere conto se non la propria città, i propri cittadini. Ma arriviamo alla parte divertente, credo che una delle soddisfazioni più grandi per tutti i ragazzi che come me si sono avvicinati alla politica con i video di Travaglio, di Beppe e in generale della Internet Libera è proprio venire a contatto con tutto quello che combattiamo, con le spartizioni, le logiche di partito, i legami clientelari e i privilegi. Sì, in questi mesi ne ho viste di tutti i colori, da sedute del consiglio interrotte per trattare in privato al riparo dalla diretta streaming a misteriose buste con biglietti gratis per concerti, per arrivare fino a ricevere senza motivo il pass per passare nelle zone a traffico limitato e nei corsie preferenziali, quelli delle ambulanze, dei mezzi ATM. Se fare il consigliere per il movimento è una bella fatica, rispedire al mittente questi privilegi non ha prezzo. Ora però torniamo al nostro luogo di lavoro. Capitolo 2 Usare al meglio tutto questo Abbiamo aperto un portone, siamo saliti nel palazzo dei gruppi consigliari percorso questi vuoti corridoi, dato che oggi è la Befana, quindi non si lavora purtroppo per il Movimento 5 Stelle non esistono né domeniche né festivi e molto spesso ci capita di lavorare anche qui di notte e siamo nella nostra stanzetta, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle dove insieme ai dipendenti del comune ci prepariamo, lavoriamo a mozioni, delibere e a la pubblicazione di tutto quello con cui veniamo in contatto. In questo momento abbiamo un rappresentante in comune e 11 nelle varie zone. Per rendere però tutto questo una gioiosa macchina da guerra contro la casta serve che ognuno di noi nel suo piccolo diventi un piccolo consigliere del Movimento 5 Stelle che sappia perfettamente come interagire con le istituzioni, con i rappresentanti nei comuni che imparino a scrivere una mozione o un'interrogazione, devono diventare strumenti familiari e soprattutto studiare. Il comune di Milano è un ente incredibilmente complesso, grande dalle mille competenze e mille livelli. Per lavorare in tutto questo, per cambiare tutto questo ovviamente serve un grandissimo studio, una grandissima conoscenza di dove ci muoviamo. Qui ad esempio ho la guida normativa. Potremmo considerarla una specie di bigino per muoversi nella pubblica amministrazione. Sono alcune migliaia di pagine ed è uno strumento fondamentale per muoversi in tutto questo. Ovviamente non è uno strumento che tutti devono avere ma se vi capita anche di passare al gruppo consigliare o in comune, dategli un occhio e capite un po' come funziona tutto questo. Studiare è fondamentale anche per conoscere gli strumenti di partecipazione che il comune ci offre in questo momento e soprattutto quelli che non ci offre, che dobbiamo costruirci assieme. La condizione in cui abbiamo trovato il consiglio comunale, quindi l'organo più importante, più prestigioso del comune di Milano, è tragica, devastante. L'operatività è pari a zero e viene utilizzato solo come teatro dai partiti per avere le dichiarazioni sui giornali e le ottengono. le decisioni a contrario vengono prese in privato dalla giunta e il passaggio in consiglio comunale rimane una semplice formalità. In tutto questo gli strumenti a nostra disposizione sono davvero pochi e le attività rimangono tre. La prima è fare informazione, fare trasparenza con tutti i documenti, tutti gli atti a cui possiamo accedere come consigliere. La seconda è portare dentro le idee sviluppate in rete, i progetti. E terzo cercare di cambiare le modalità di partecipazione, sicuramente uno dei compiti più importanti che abbiamo come movimento. Se il 2011 è stato l'inizio di tutto questo, il 2012 sarà un anno cruciale per noi. La politica fatta dai semplici cittadini sta funzionando e i partiti faranno di tutto per distruggerla, per combatterla. Sarà un anno difficile e ognuno di noi dovrà fare la propria parte. Presto inizieremo a fare degli incontri per tutti i cittadini che vogliono aiutare a far funzionare meglio il movimento, ricordando che tutti gli attivisti sono volontari e mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. Questa è la nostra forza. Mi tocca concludere con un tasto dolente. Nonostante non ci piacciano i soldi e vogliamo togliere i soldi dalla politica, per le attività sul territorio e un po' tutte le nostre campagne, un minimo di fundraising serve. Molto spesso sono gli stessi attivisti a rimetterci di tasca propria per portare avanti un progetto. E un aiuto anche da questo punto di vista è ovviamente fondamentale. A questo proposito volevo condividere con voi la mia scelta di donare il 10% del mio stipendio alla Casa del Movimento per dare un po' di ossigeno a tutte le nostre attività. Non importa se come avrete visto dalla sezione trasparenza, lo stipendio che prendo come consigliere è al di sotto della soglia massima dei 2.500 al mese che ci siamo dati come movimento. Credo che sia comunque un atto dovuto nei confronti di tutti gli attivisti che lavorano gratuitamente per questo progetto. Insomma, mille cose da dire e mille progetti da portare avanti. Ma ora vi lascio all'ultimo giorno di questo break natalizio, di queste vacanze. È solo l'inizio. Pronti a ripartire insieme e a presto, seguiteci sui canali e venite a darci una mano. Buon 2012 a 5 stelle.